Buonasera a tutti. Continuiamo questa carellata sulle batterie litio che ho visto che c'è stato molto interesse, mi avete scritto in tanti, mi avete fatto tantissime domande e quindi ho deciso di approfondire l'argomento. Oggi parleremo come mantenere nel miglior modo possibile le nostre batterie litio. La premessa è che non sono uguali alle batterie al piombo. Per batterie in piombo intendo tutti i tipi di batterie che si usano nelle auto per esempio o per l'avviamento dei motori, che siano AGM o che siano del tipo normale o che siano come le Optima cioè con le celle rotonde. Sono tutte batterie al piombo con acido e devono essere mantenute e usate in un modo diverso rispetto alle batterie al litio che tra l'altro durano anche tanto molto tanto di più. Le batterie al piombo devono essere sempre caricate alla fine dell'uso e possibilmente il prima possibile e vanno mantenute a una tensione di carica che equivale praticamente al 100% della carica della batteria. Questo vuol dire che i nostri sistemi per caricare le batterie al piombo faranno una carica continua con una tensione molto elevata che può arrivare anche a 14 volt. Dopodiché quando la batteria ha raggiunto il massimo della sua tensione dovrebbero passare allo stato di bulk e mantenerla sui 12.8 12.9. Quello è il modo migliore per mantenere le nostre batterie sempre cariche e farle soprattutto durare molto tempo. Tutte le batterie funzionano per i primi due o tre anni in un modo praticamente quasi equivalente cioè che tu le tratti bene o le tratti male i primi due o tre anni in teoria tutte le batterie riescono a passarli. Stranamente quando scade la garanzia allora cominciano a sorgere anche problemi però normalmente non è un problema di costruzione della batteria ovviamente stiamo parlando sempre di batterie che hanno una buona qualità. Il problema spesso è dovuto alla nostra mancanza di cura di queste batterie. I parametri fondamentali di una batteria sono tre non sono due. Tanti potrebbero pensare alla tensione d'utilizzo e alla corrente. In realtà c'è anche un terzo valore che è molto importante e la resistenza interna della batteria. Con il tempo questa resistenza degrada cioè aumenta fondamentalmente e più si alza questa resistenza interna della batteria più avremo problemi nel momento in cui vorremmo utilizzare tutta la capacità della batteria sia nel momento dello start quindi l'impulso di massimo ampere che abbiamo quando ci serve per esempio fare l'avviamento del motore sia per la durata di mantenimento quindi di una certa tensione per tanto tempo anche nel momento in cui c'è un assorbimento di corrente. Questa resistenza interna è data da diversi valori uno riguarda la costruzione fisica della batteria un altro molto importante che è quello che ci interessa di più di tutti a noi è la solfatazione della batteria cioè la batteria tende se noi la lasciamo scarica anche parzialmente scarica a solfatare cioè si crea dell'ossido sulle piastre questo ossido a lungo andare fa aumentare la resistenza della batteria. Qui potrei darvi delle formule matematiche tipo se noi abbiamo una corrente se la moltiplichiamo per una resistenza abbiamo i volt e quelli sono i volt di caduta proprio all'interno di elementi della nostra batteria e quindi è molto importante che questa resistenza sia bassa per la stessa legge che questa è la legge di ohm se abbiamo una batteria con la resistenza interna alta anche la corrente di carica farà scaldare la batteria insomma questa resistenza deve essere bassa altrimenti se si alza oltre un certo livello noi potremmo avere la batteria che ci segna sempre 12 volte 8 per esempio 12 volte 6 però in realtà se vorremmo utilizzare quella batteria per 100 ampere mettiamo per ipotesi che siano 100 ampere in realtà ne avremo solo 20 o 30 disponibili e quindi la batteria va sostituita per questo motivo e dopo finisco questa parentesi io vi consiglio di tenere sempre in casa o anche in barca un tester come questo che vi sto mostrando adesso sono dei tester che oggigiorno costano poco non costano tanto però sono molto utili perché ci fanno analizzare la batteria e ci dicono le condizioni quando voi attaccate il tester selezionate il tipo di batteria che ci avete applicato e lui vi darà i dati di questa batteria e vi dirà se la batteria è buona oppure no da sostituire finite tutte queste premesse iniziamo finalmente a parlare delle batterie a litio oramai siamo in tanti ad avere le batterie a litio sulla barca qualcuno per i servizi tantissimi per i motori elettrici di prua sappiamo che sono oggetti anche costosi però pochi sanno qual è la manutenzione e come vanno usate queste batterie ecco il termine giusto e proprio usate perché le batterie litio sono differenti rispetto alle batterie agm o comunque il piombo quando le lasciamo cariche al 100% tendono a rovinarsi a rovinarsi prima intendo noi abbiamo delle batterie le leaf epo 4 quelle che ho presentato nel video precedente se l'avete perso vi lascio il link qui ce l'avrete anche nella descrizione del video guardatelo perché è molto interessante vi dicevo le leaf epo 4 sono delle batterie ottime che durano anche più di 10 15 anni quindi veramente uno fa una spesa una volta e dopo se ne dimentica ma l'importante è mantenerle bene perché altrimenti questa durata teorica anche di 15 anni comincerà a ridursi 12 10 5 quindi cerchiamo di fare in modo di mantenere nel miglior modo le nostre batterie allora prima legge fondamentale la batteria litio non va conservata carica al 100% questo è uno degli errori più grandi che si possono fare non bisogna assolutamente usare la batteria del gommone o della varca quando andiamo fuori appena finita la pescata metterla subito sul caricabatterie e caricarla al 100% è ancora peggio lasciare il caricabatterie attaccato per più giorni conosco persone che alimentano la propria barca dalla banchina e lasciano il caricabatterie acceso fin quando tornano anche dopo una settimana è sbagliato è sbagliato perché le batterie litio vanno caricate al 100% almeno una volta ogni 3 4 mesi soprattutto se le stiamo utilizzando abbastanza però normalmente sarebbe meglio tenerle tra l'80 85 per cento di carica quindi se noi dobbiamo uscire domani e abbiamo bisogno di tutta l'energia disponibile andiamo in barca il giorno prima carichiamola al 100 per cento e il giorno dopo andiamo a pescare anche tutto il giorno o per più giorni se la batteria la scarichiamo l'80 per cento non carichiamola subito quando torniamo in banchina lasciamola così se arriviamo anche al 60 al 50 al 40 per cento lasciamola così l'andremo a caricare solo il giorno prima di andare in barca se invece non abbiamo la possibilità di andare in barca per esempio il giorno prima possiamo caricarla ma non carichiamola al 100 per cento fermiamoci all'80 le batterie vanno diciamo dimensionate secondo l'utilizzo che noi facciamo e presto arriverà un video anche su come vanno dimensionate le batterie anche questa è una cosa che mi chiedete in tanti cerchiamo di prendere le batterie che abbiano almeno un 20 30 per cento di capacità in più rispetto a quello che effettivamente ci serve altrimenti avremo il problema che non ci basterà più quell'ottanta per cento di capacità per fare tutto quello che dobbiamo fare giusto bene adesso parliamo un attimo del caricabatterie anzi parleremo di due caricabatterie tre caricabatterie il primo il più importante è quello che noi utilizziamo fisso che va alimentato con la rete a 220 volts adesso vi mostro come deve lavorare questo caricabatterie ecco qui vedete un grafico su questo grafico sono rappresentate due curve c'è la curva della corrente e la curva della tensione la tensione è quella che voi rilevate praticamente sulla batteria e la curva della corrente è quella che gestisce il caricatore se voi avete un amperometro lo potete controllare ma lo fa lui internamente in modo automatico è importante vedere che il caricabatterie quelli fatti bene devono avere almeno tre funzioni diverse che entrano in funzione in modo differente a seconda di quanto è carica o scarica la batteria se la batteria è molto scarica inizia con il t1 c'è un certo tempo t che serve per riportare la batteria a una tensione minima ma questo caso è soltanto quando si va a scaricare sotto il 10 per cento del totale della batteria quindi è un sistema abbastanza raro che si comporti in questo modo raggiunta una tensione minima della batteria allora il caricatore manda fuori tutta la corrente disponibile che dovrebbe essere almeno diciamo tra il 10 e il 20 per cento della capacità totale della batteria in certi casi si possono utilizzare anche i caricatori più potenti arrivare anche il 30 che il 40 per cento però se io sto parlando adesso del sistema migliore per mantenere le batterie nel miglior modo quindi caricabatterie che vada dal 10 al 20 per cento di carica la batteria non deve essere ghiacciata nel senso la carica meglio farla se partiamo dai 10 gradi in su già a 5 gradi siamo un limite se andiamo a 0 gradi meglio proprio non farla perché a 0 gradi rischiamo di rovinare le celle per caricarle ci sono di caricabatterie speciali per le tensioni molto basse ma non è il nostro caso che siamo in mare e di solito le temperature lì non vanno così giù quindi c'è questo t2 che riguarda una corrente costante che fa salire molto lentamente la tensione delle nostre batterie litio perché a differenza di quella al piombo la curva di salita della tensione è molto piatta quindi la risalita è molto molto lenta quando arriviamo alla tensione giusta massima diciamo siamo intorno all 80 al 90 per cento della tensione quindi della carica totale della nostra batteria il caricatore deve pian pianino calare la corrente e andare con una corrente molto più bassa in fondo al grafico vedete quel piccolo picco quando raggiungiamo il limite superiore quindi le batterie sono veramente cariche al 100 per cento la tensione tende a salire più velocemente ma quello è il momento in cui bisogna staccare l'alimentazione tutti i caricatori costruiti bene hanno già dei parametri inseriti all'interno studiati appositamente per le leaf e più 4 che in pratica sono tutto uguali non ci sono grandi differenze tra le celle ovviamente è bene utilizzare il caricatore che nasce per quella batteria che stiamo utilizzando nel mio caso che ho una lit time io mi sono preso ovviamente anche il caricatore della lit time qui tra l'altro vi mostro ecco il manualetto che viene dato insieme al caricatore come per le batterie è tutto molto semplice e molto ben spiegato il caricatore ha in pratica vediamo se riesco a mettere a fuoco un cavo che va montato sulla batteria quando si carica la batteria non bisogna contemporaneamente utilizzarla col motore elettrico di prua proprio per evitare che il caricatore non riesca a capire in quale fase si trova la batteria quindi non è in grado di rilevare questa fase a questo punto si fa la carica completa della batteria e negli ultimi 20 per cento il bms interno alla batteria ormai dovrete già sapere che il battery management system di cui ho parlato nel video precedente fa l'equalizzazione della celle cioè porta tutte le celle all'interno della batteria alla stessa tensione le equalizza il bms e anche il soc che è anche un altro valore importante della batteria si regolano proprio quando noi andiamo a caricare al 100 per cento in quel momento tutte le celle vengono equilibrate e il soc cioè il 100 per cento del valore e la capacità della batteria si azzera se noi utilizziamo la batteria sempre in un range tra il 30 all'80 per cento il nostro bms lavorerà male cioè non riuscirà a fare bene l'equalizzazione e il valore di soc non sarà più preciso perché come funziona il soc praticamente io arrivo a fondo scala cioè so che la batteria carica al 100 per cento se ne accorge sia il caricatore che il bms a quel punto gli scrive 100 per cento e dopo di che calcola quanta corrente sto utilizzando e quindi pian pianino quel valore scende ovviamente ha una certa precisione se io sto all'interno del range del 20 30 per cento fino al 60 80 a lui gli manca diciamo di fare lo zero quindi in realtà nel tempo può cominciare a dare valori un po sballati quindi cerchiamo di mantenere la batteria sempre sull'80 al 90 per cento di carica quando non la utilizziamo ma comunque una volta ogni tanto ogni 4 5 uscite ogni 4 5 cariche posso anche dire facciamo un 100 per cento così si azzera tutto e subito dopo andiamo utilizzarla di nuovo in modo da abbassare la tensione della batteria e non la lasciamo carica e la magari lasciamo a bordo carica per tanto tempo un'altra cosa che è importante da sapere sulle batterie litio sono abbastanza sensibili la temperatura quindi cerchiamo di non tenerle in una sala macchine per esempio dove arrivano 50 60 gradi abbastanza facilmente perché le batterie litio soffrono cerchiamo di tenerle in zone un pochettino più raffreddate se le usiamo tanto prima di ricaricare lasciamo che si raffreddino anche questa è una buona norma in definitiva non ci sono tante cose da fare di particolare rispetto alle batterie al piombo e un po prendere delle abitudini leggermente diverse rispetto a quello che eravamo già abituati tanti mi chiedono anche come caricarla col motore fuori bordo o col motore entro bordo si può non è un problema adesso uscirà proprio una questione di qualche giorno un ulteriore video su cui vi spiegherò e vi mostrerò l'impianto corretto per caricare la batteria anche col vostro fuori bordo o col motore entro bordo sia per salvaguardare la batteria che anche per salvaguardare l'alternatore del motore perché anche lì ci sono diverse cosette che bisogna sapere per quanto riguarda la carica solare si può fare bisogna avere caricatori solari che nascono per le batterie litio e anche lì ci sono delle cose che bisogna conoscere proprio per evitare di andare a rovinare in breve tempo questo bellissimo oggetto che secondo me sarà il futuro io penso che fra qualche anno quasi tutte le barche utilizzeranno questa tecnologia e avranno queste batterie perché i vantaggi sono veramente enormi da tutti i punti di vista soprattutto per la sicurezza di aver la batteria sempre funzionante almeno per tanti anni quante volte io personalmente sono andato al mare con la mia barca o anche sulla barca di amici e proprio nel bello della vacanza si è rotta la batteria abbiamo dovuto cercare un posto dove sostituirla mille problemi senza parlare di tutto il peso che uno si deve portare sempre dietro tutto questo ormai fa parte un po della storia la tecnologia è andata avanti abbiamo delle batterie che adesso cominciano a essere molto performanti e a prezzi contenuti quindi perché non approfittare bene anche questo video l'abbiamo fatto vi aspetto sul canale per vedere la terza parte che riguarderà appunto il carica solare e il carica batterie al litio che va a gestire diciamo la batteria direttamente dal nostro motore fuori bordo o introbordo ciao ragazzi